Continuiamo la serie di birre natalizie con la birra di uno dei miei birrifici preferiti ammetto stiamo parlando della San Bernardus Christmas Ale come anticipato appunto birrificio San Bernardus siamo in Belgio nella zona nord-ovest del Belgio il nome di questa birra è appunto la Christmas Ale lo stile è ovviamente una Kersbier quindi per usare il riferimento BJCP una Winter Seasonal Beer grado alcolico di questa birra a 10 gradi il prezzo di questa birra da 75 cl non lo conosco e non lo posso andare a vedere perché mi è stata regalata il bicchiere suggerito è un pallone o un tulipano io in questo caso utilizzerò il pallone e sì si tratta di un primo assaggio nonostante ammetto di aver assaggiato già quasi tutte le birre in linea e prodotte da San Bernardus questa è la prima volta che la assaggio allora una piccola nota sul pallone innanzitutto appunto è un bicchiere a pallone ma vanno benissimo anche i tulipano ovviamente per questo tipo di birre questo è un bicchiere brandizzato San Bernardus l'avevo acquistato in Belgio e a proposito vi rimando al video che ho fatto questa estate o meglio quest'autunno ormai dove facevo un po' un riassunto del mio viaggio estivo in Belgio dove sono stato proprio a visitare il birrificio di San Bernardus e appunto in quel video ci sono un po' di considerazioni su quello e sugli altri birrifici che avevo visitato in particolare il birrificio di San Bernardus come caratteristica molto interessante secondo me c'è la storia che lega questo birrificio all'abbazia di San Sixtus abbazia dove viene abbrassata la famosa Vesvleterem o meglio le famose Vesvleterem perché sono tre le birre e in particolare la Vesvleterem 12 è stata abbrassata fino al metà degli anni 90 nel birrificio San Bernardus prima che l'associazione dei birrifici trappisti decidesse che per utilizzare il famoso logo esagonale tutte le birre dovevano essere prodotte interamente all'interno dell'abbazia da quel momento in poi quindi San Bernardus ha smesso di produrre la Vesvleterem 12 che viene prodotta in quantità molto più limitate oggi all'interno dell'abbazia e produce in particolare la San Bernardus ABT12 che è la stessa ricetta della Vesvleterem 12 stesso ceppo di lievito e diciamo che sono due quadruple molto molto simili difficili secondo me da distinguere molto simili tranne per quanto riguarda il prezzo perché ovviamente San Bernardus ha volumi molto più ampi molto più facili da reperire quindi si trova la San Bernardus ABT12 a prezzi molto più bassi rispetto alla Vesvleterem per ogni dettaglio ulteriore vi rimando appunto o al video sulla visita dei birrifici in Belgio tra cui appunto San Bernardus o al video sulla Vesvleterem 12 dove c'è questo paragone con la San Bernardus ABT12 per quanto riguarda diciamo l'estetica della bottiglia in questo caso c'è un tappo in sughero coperto da gabbietta e tappo metallico tappo metallico che riporta il logo di San Bernardus lo stesso logo che c'è anche sul bicchiere due etichette frontalmente c'è appunto la scritta Christmas Ale e questo simpatico signore che sorride su tutte le bottiglie di San Bernardus anche qui è interessante che se andate a vedere le bottiglie di San Bernardus prima della decisione appunto le birre trappiste di essere prodotte solo all'interno dell'abazia c'era disegnato un monaco dopo questo passaggio visto che solo diciamo i birrifici all'interno delle abbazie possono utilizzare quel logo, quel nome e quel tipo di immagine è stato vestito con vestiti laici ma le bottiglie appunto precedenti hanno lo stesso identico personaggio nella stessa posizione ma appunto con la tonaca da frate mentre in quelle successive agli anni 90 ha questo vestito qui invece appunto più laico nella versione Christmas Ale viene aggiunto anche il cappello rosso da babbo natale sul retro ci sono scritti gli ingredienti le informazioni in fiammingo e in inglese non è scritta in italiano leggo solo gli ingredienti giusto per sicurezza acqua, malto d'orzo, zucchero, luppolo, lievito non vengono indicate l'aggiunta di spezie ma posso immaginare sia perché appunto è una birra di Natale sia perché conosco le birre di San Bernardus c'è spesso una bella speziatura al naso almeno ok dopo questa introduzione direi che possiamo aprire la bottiglia come anticipavo c'è appunto questa gabbietta metallica spesso nelle bottiglie da 75 centilitri non c'è il tappo in alluminio ma c'è appunto questa gabbietta e dentro alla gabbietta c'è un tappo in sughero ora la posizione un po' lontana non rende semplicissima l'operazione ecco in questo caso una bottiglia così grande una volta che viene fatta la prima viene versato il primo bicchiere e viene rimessa in verticale irrimediabilmente solleverò il fondo quindi i bicchieri che servirò adesso dopo questa avranno sicuramente un pochino più di lievito in sospensione e la birra sarà più torbida se fossimo ovviamente a tavola abbiamo già tutti i bicchieri pronti sarebbe bene versare subito tutta la bottiglia nei bicchieri per evitare di versare anche il lievito a meno che appunto non conoscete già la birra invece non vi interessi avere del lievito in sospensione qui visto che facciamo però appunto una degustazione un pochino più precisa comunque nella maniera più precisa possibile è bene fare solo con il primo sorso quindi così da non avere lievito poi in sospensione partendo quindi dall'analisi visiva di questa birra che dire è una schiuma sicuramente abbondante persistente con una texture fine e anche abbastanza regolare la birra è un bel color è un ambrato scuro non è propriamente nera è un marrone molto scuro e soprattutto in direzione della luce ci sono dei bellissimi riflessi rubino all'interno del bicchiere passiamo quindi al naso un bouquet interessante molto molto belga allora partendo dall'intensità aromatica direi media non è elevatissima l'intensità ci sono birre molto più intense per quanto riguarda appunto l'aroma al naso è molto 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 classica nel senso che c'è del pane c'è sicuramente una speziatura coriandolo c'è anche un pochino di agrumi le tre cose che si sentono sono queste e facendo un pochino di attenzione c'è anche un pochino di alcolico ma proprio molto leggero non è fastidioso non ricade nel solvente o negli alcoli superiori quindi sicuramente un fruttato agrumi pane lievito dato tutto dal lievito ovviamente questo e spezie ok non ci resta che passare quindi alla degustazione al palato interessante interessante in bocca allora è molto classica come partenza tanto malto tanto dolce molto interessante che sul finale non arriva tanto amaro anzi molto molto poco e sorprendentemente sul retrogusto e sul retroolfatto torna ancora un po' di speziatura e direi che torna un pochino di zenzero o comunque mi sembra di sentire quel quel tipo di floreale o meglio di fruttato manca praticamente quasi completamente la parte amaricante o comunque tra dolce e amaro vince alla stragrande la componente dolce tranne questo finale appunto quasi non dico sapido ma comunque mi fa pensare boh qualcosa come potrebbe essere appunto una speziatura forte o lo zenzero altre caratteristiche interessanti di questa birra sempre per quanto riguarda il palato è una frizzantezza molto elevata molto frizzante questa birra così come molte stronghead o molte quadrupe lo sono il corpo tutto sommato devo dire che è abbastanza leggero nonostante 10 gradi nonostante il colore così possa far pensare a birra è molto densa in realtà non è acquosa non è watery però me lo aspettavo ad occhio un po' più corposa in realtà invece è abbastanza medio o medio basso il corpo di questa birra questo mi fa pensare che probabilmente per ottenere un volume alcolico così alto o un corpo così leggero venga aggiunto dello zucchero e infatti guardando gli ingredienti water barley malt sugar viene lo zucchero viene subito dopo malto per quanto riguarda le quantità e prima di luppolo quindi ci sarà immagino aggiunto una discreta dose di zucchero che viene quindi fermentato trasformato in alcol mantenendo un corpo abbastanza leggero comunque non ci sono nella preparazione del mostro di questa ricetta non ci sono molti zuccheri del malto a catena lunga quindi quelli non fermentabili da lievito in modo tale che il lievito mangi tutto quanto riesca ad alzare il grado alcolico ma il corpo poi della birra si mantenga così leggero questa quindi era la San Bernardus Christmas Ale scola la San Bernardus 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 Grazie a tutti.